Siamo a Palagiano, presso il Palazzo di Città, con il Sindaco, l'Avvocato Domiziano Lasigna e cerchiamo un po' di fare il punto della situazione, il bilancio di questi ultimi mesi di attività. Noi ci siamo visti un po' prima, proprio per tracciare questo quadro, con l'avvento dell'estate. Ora l'estate è trascorsa con una ricchissima stagione estiva, ricca di eventi a livello di spettacolo, soprattutto a livello di cultura e ora si ritorna, ma in questi mesi comunque non ci sono stati solo eventi, ma l'attività amministrativa è andata avanti spedita. Ecco, Sindaco, facciamo un po' il bilancio di questa attività, diciamo ennucleando i punti fondamentali, le tappe di questo percorso amministrativo. Innanzitutto benvenuti, grazie come sempre di questa opportunità che concedete alla nostra città di fare un po' un punto della situazione con i nostri telespettatori, con i nostri ascoltatori. È stato un anno particolarmente complicato e questa ripartenza ha reso ancora più complicato il lavoro, perché abbiamo dovuto necessariamente, con molta attenzione, rispettare una serie di scadenze, di appuntamenti, subito dopo l'estate, è stata un'estate ricca come tu dicevi, proprio perché abbiamo voluto in qualche modo concederci uno spazio di condivisione nella pubblica piazza, infatti gli eventi sono stati prevalentemente concentrati proprio in piazza Vittorio Veneto. Dopodiché abbiamo iniziato a sostanziare una serie di appuntamenti e di scadenze necessarie per esempio per la ripartenza del mondo scuola, quindi mensa, quindi trasporto, quindi sistemazione, anche grazie a fondi Covid delle strutture scolastiche, prevalentemente i due istituti comprensivi, Rodari e Giovanni XXIII. Abbiamo quindi voluto far partire per esempio la sezione primavera quest'anno con una puntualità, o meglio con un anticipo mai verificatosi negli anni, proprio per concedere a tutta la comunità, nelle sue varie fasce sociali, le opportunità necessarie per ripartire, quindi avere il tempo, avere lo spazio, avere le possibilità e le opportunità necessarie per ricominciare una vita quanto più normale possibile, considerando la pandemia che ormai va, almeno stante i dati giunti negli ultimi giorni, va via via risolvendosi, anche se la guardia deve rimanere sempre alta perché le notizie che arrivano da altre città, ma soprattutto da altre nazioni, non ci rassicurano. Noi oggi a Palagiano contiamo da ultimo report solo due casi di positivi al Covid e resta un dato assolutamente confortante, ma ripeto, le informazioni che giungono non sono serene. Gli obiettivi posti in questa fase sono obiettivi prevalentemente dedicati al mondo scuola e tutto quello che è stato fatto in questi mesi, compreso per esempio il bando dei buoni spesa, i buoni alimentari, sempre fondi governativi, fondi Covid, sono stati proprio destinati alle famiglie che hanno bisogno, hanno dimostrato di avere bisogno di una vicinanza da parte dell'amministrazione e in questo caso abbiamo bandito ad esempio l'avviso per i buoni alimentari.